E' arrivato ora il momento del secondo approfondimento in studio con un ospite naturalmente molto importante. Vediamo insieme di chi si tratta. Tempo di festeggiamenti in casa Mini e prima di andare a fare gli auguri per un speciale anniversario vado a introdurre, a salutare e ringraziare di essere qui con noi il nostro ospite di oggi, quindi il benvenuto a Cristiana Lattuada, PR Manager di Mini Italia. Buonasera Cristiana. Buonasera, grazie dell'invito Alessio. Ovviamente come sempre i nostri ospiti non sono mai da soli, vengono sempre accompagnati da una vettura. In questo caso si è scelto di avere qui in studio una Mini Cooper 3 porte nella configurazione S che rappresenta un po' nella sua declinazione questa edizione speciale, 60 Special Edition, che rappresenta appunto questo anniversario importantissimo perché a Cristiana sono, come dicevamo, a inizio ben 60 le candeline che andate a dover spendere quest'anno. È un anniversario importante che in realtà porta con sé una lunga storia di successi iniziata nel 1959 quando Sir Alec Isigonis ha disegnato la prima Mini e in realtà è una storia che è rimasta sempre uguale a se stessa ma ha saputo rinnovarsi in questi 60 anni. Se pensiamo che all'inizio si parlava di una vettura piccola e che oggi si parla di un'intera gamma ma in realtà con un design iconico che richiama in tutto e per tutto la vettura dei tempi, ecco qui possiamo da subito comprendere qual è stato il segreto del successo di questo prodotto che è diventato appunto un'intera gamma. Certo, 60 anni oggi, Mini nasce nel 1959, occhi tutti puntati all'inizio e per diverse decadi verso un'unica vettura che rappresentava un po' l'immagine proprio del brand di origine inglese. Poi l'acquisizione da parte di BMW è una trasformazione, un ampliamento direi decisamente importante che ha proiettato poi Mini in un mercato anche, se vogliamo, anche più globale, no? Quello che è stato un po' il segreto, tra virgolette, del successo di Mini è stata la scelta di portare avanti le caratteristiche che hanno reso iconico il primo modello e poi ripercorrere l'interno di questi 60 anni e quindi ritrovarli in tutta l'intera gamma. Ci piace sempre ricordare che il DNA di Mini si basa su 5 principi cardine che sono Inventive Spirit, Creative Use of Space, Go Car Feeling, Minimal Footprint e ovviamente la capacità di sapere essere una vettura piccola ma allo stesso tempo quindi racchiudere in sé una serie di contenuti di innovazione, di tecnologia che la portano a essere sempre al passo coi tempi. Non era semplice probabilmente lavorare rispettando la tradizione. Devo dire che forse Mini da questo punto di vista ha avuto un grande rispetto della sua storia ma è stata capace anche poi di rinnovarsi, no? Il gioco che non era semplice è stato poi finalizzato nel modo migliore. Abbiamo cercato di bilanciare quello che era la tradizione quindi portare appunto avanti le caratteristiche della nostra tradizione ma cercando anche di rinnovarsi e di mantenere sempre giovane e cool il nostro brand. Quindi questo sta un po' nella nostra iconicità diciamo. Ecco, un punto fermo quest'anno per Mini nel 2019 sono appunto questi 60 anni festeggiati attraverso una sorta di celebrazione che attraversa un po' appunto tutta la gamma con queste edizioni speciali ribattezzate appunto 60 Years Edition. Qua in studio abbiamo uno di questi esemplari. Raccontaci un po' come avete lavorato per questi allestimenti sulle diverse appunto vetture della vostra gamma. È una versione come appunto Cennavi che celebra il 60 anni infatti si chiama Six Years Edition che in realtà parte da una colorazione tipica British quindi che va a ricordare quelle che erano le colorazioni delle vetture sportive inglesi verde appunto British Racing Green come lo chiamiamo noi con delle caratterizzazioni legate sia esteriormente che interiormente ai 60 anni quindi dalle bonnet stripes ai side scattol, ai cerchi al logo che si proietta dando il benvenuto al guidatore prima di salire sull'auto e poi all'interno invece abbiamo volante e interni in colorazione con caratteristiche specifiche di questa edizione diciamo. E l'edizione Six Years è presente sulla mini tre porte e mini cinque porte nelle due motorizzazioni benzina da 136 e 192 cavalli quindi Cooper e Cooper S. Ovviamente una versione che sarà disponibile solo per quest'anno. Sì fino all'inizio del prossimo anno e poi in realtà rimane una... si spera che rimarrà nella storia come una delle edizioni che hanno fatto i successi di questi 60 anni. Con più valore indubbiamente. Senti Cristiana si è sempre parlato di una sorta di stile mini se vogliamo così definirlo, no? Intanto ti chiedo, questo stile mini poi lo si può riproporre su quello che è la clientela finale? Cioè c'è una tipologia di clientela proprio che si approccia al prodotto mini oppure all'allargamento della gamma di questi ultimi anni l'offerta diversificata di prodotti ha spostato un po' questo parametro? Un po' tutto due le cose. Allora sicuramente l'ampliamento della gamma ha permesso a tutti i clienti che a mano mini si riconoscono nel brand e nei valori del brand di poter approcciare al prodotto anche con l'evolversi della loro vita e quindi col cambiare delle loro esigenze. Quindi da una piccola vettura destinata all'uso urbano quale inizialmente la mini tre porte e poi dopo la mini cinque porte con due porte in più un pochino più di bagagliaio per arrivare poi invece a una clubman o una countryman che quindi hanno delle funzionalità differenti vetture con più versatilità, più capienza e più spaziosità e quindi vanno a soddisfare delle diverse esigenze però comunque di una clientela che cerca nel nostro prodotto da un lato il design perché come dicevamo prima è una delle caratteristiche, l'Iconic Design è una delle cinque caratteristiche del nostro DNA che cerca il feeling di guida, il divertimento di guida nel go-car feeling che cerca l'innovazione e quindi una vettura sempre al passo con i tempi però che sicuramente si vuole distinguere è infatti una delle caratteristiche che decretano il successo di mini anche l'infinita possibilità di personalizzazione di queste vetture dai cerchi al volante, al tetto, agli specchietti, alle bonnet stripes a tutte le colorazioni infinite e anche molto spiritose e giovanili quindi poter giocare con la vettura che è quello che soddisfa un po' la nostra clientela tanti clienti mini danno addirittura il nome all'auto si salutano quando si incontrano per strada facendosi fare quindi diciamo che è un po' lo spirito di appartenenza anche a una community che li rende entusiasti unici anche forse parlando di stile, parlando di unicità, di personalizzazione che sono un po' appunto questi tratti caratteristici del mondo mini c'è un po' un rischio però di dimenticare altri aspetti cioè che questi argomenti vengano talmente espressi in maniera quasi preponderante che si dimentichi poi altri focus che poi per voi sono altrettanto importanti quindi mi riferisco alla tecnologia, allo sviluppo di nuove motorizzazioni che dovranno presto arrivare sul mercato rispettando quelli che sono anche i tempi che richiede un mondo appunto che come dicevamo prima sta cambiando in termini anche di ibrido, di elettrico abbiamo iniziato lo scorso due anni fa nel 2017 a introdurre il primo modello ibrido quindi la mini ibrida plug-in basata sulla corzeria mini countryman e entro la fine di quest'anno presenteremo la prima mini elettrica che sarà basata sulla carrozzeria mini tre porte che è quella che abbiamo ad esempio qui in studio come esempio quindi il processo peraltro è già in atto è un processo in atto esattamente ed è la risposta che sta dando Mini alle esigenze di mobilità sostenibile tutti questi prodotti chiaramente portano in sé un bagaglio importante di tecnologia quindi di innovazione e da un punto di vista tecnologico di connessioni ma anche di sicurezza grazie quindi a Cristiana tanti auguri ancora a Mini per questi 60 anni ci ritroviamo sicuramente prossimamente in studio direi nella seconda parte dell'anno con la Mini Club Band che sarà l'assoluta protagonista per Mini nella seconda parte della stagione grazie un saluto da parte mia Cristiana Lattuada PR Manager per Mini Italia grazie